10 APR, spiritualità e cruda concretezza, sfida e senso del limite, fragilità ed equilibrio, è un quadro complesso e a volte contraddittorio quello della montagna, un cerchio di natura, vita e morte, fotografato senza sconti nel 66. Trento Film Festival. Dal 26 aprile al 6 maggio saranno proposte, è stato spiegato a Milano, circa 130 pellicole, selezionate fra oltre 700 film, di cui 25 in concorso che avranno come cornice eventi, incontri, mostre e convegni. E l'occasione, in un clima di cosiddetta slow mountain per riflettere con tempi lenti e al contrario di ricerca dei confini possibili dell'alpinismo, ci dice qualcosa anche al femminile, quando la montagna è simbolo di emancipazione. Ne saranno concreta testimonianza con la loro presenza Pasanglamo Sherpa Akita, guida alpina del Nepal e prima donna del suo paese ad aver scalato il K2 e nasi Meshqui, free climber, unica donna a fare ufficialmente dell'arrampicata la propria professione in Iran.